bomba ragazzi e bentornati in questo video qui a Giappiazzi siamo qui ragazzi in un nuovo video siamo appunto qui ragazzi per i Giappiazz pronostici di questa 32esima giornata prima di tutto vi chiedo 4 semplici cose un like sotto questo video, un commento di me la vostra, fatemi i vostri pronostici qui sotto vedremo chi ne azzecca di più ovviamente tra di voi e ovviamente se siete nuovi iscrivetevi al canale, attivate la campanella della notifica vediamo, vi dico questa cosa, chi indovina più pronostici qui sotto nei commenti verrà salutato al prossimo video dei pronostici quindi chi azzecca più risultati, la persona che azzecca più risultati verrà salutata al prossimo video appunto, e ovviamente iscrivetevi al canale, attivate la campanella, passate in descrizione seguitemi appunto su Instagram, Piattaforma Viola e TikTok quindi vi tengo sempre aggiornati sui social quindi venitemi a seguire anche lì, tanto vediamo uguale e ovviamente passate sui siti con i quali collaboro, ovvero maglie.com per maglie da calcio ovviamente maglie fatte benissimo, è uscito i vari unboxing, andate a recuperare veramente maglie di qualità, vi posso dire, ci posso mettere anche una buona parola che le maglie sono veramente fatte bene, trovate le divise di tutti i campionati, divise estere delle nazionali e anche le divise di retro, fateci un salto col codice sconto job perché avrete un ulteriore sconto e potrete approfittare di varie promozioni, quindi approfittatene poi ovviamente passate sull'altro sito con il quale collaboro, ovvero 22bet, il sito con il quale ho preso le quote quindi se vi iscrivete tramite il mio link, ovviamente dovete essere maggiorenni per partecipare e giocate con moderazione, comunque se vi iscrivete tramite il mio link avrete un bonus fino a 122 euro quindi approfittatene, iscrivete tramite il mio link che trovate in descrizione quindi vi supporterete ma nello stesso tempo avrete anche un bonus ogni volta che vi iscrivete tramite il mio link quindi iniziamo subito, la prima partita, Empoli-Spezia, io ho pronosticato un 1x che secondo me l'Empoli o vince o pareggia, la quota è un po' abbassina però è buona 1,282, poi Inter-Verona, io ho pronosticato 1 handicap che l'Inter secondo me vince con 2 gol di scarto secondo me, 1,995 la quota, quindi 1 handicap Cagliari-Juventus, 2, quota 1,59, diciamo una quota buona poi Genova-Lazio, 2, diciamo che ero indeciso qui sulla Lazio se giocare o il gol entrambe le squadre o il 2 però la quota del 2 mi piaceva, 1,912, quasi a 2 la davano alla vittoria della Lazio quindi ho messo 2 della Lazio, 1,912 la quota Napoli-Fiorentina, 1, la quota 1,73, buona Sassuola-Atalanta, qui volevo mettere il 2 dell'Atalanta però non mi sono affidato perché comunque il Sassuola è una squadra ostica e alla fine ho cambiato, ho messo gol quindi secondo me entrambe le squadre segneranno almeno un gol quota 1,53, quindi Sassuola-Atalanta devono segnare un gol a 1,53 la quota Venezia-Udinese, qui pure ero un po' indeciso, volevo giocare l'X2 però la quota era troppo bassa e alla fine ho pensato che secondo me il Venezia almeno un gol in casa lo fa l'Udinese dopo i tre gol, dopo i quattro gol che ha fatto l'ultima giornata secondo me altrettanti li farà pure stagionata quindi entrambe le squadre segnano quindi gol, Venezia-Udinese gol quota 1,88 Roma-Selernitana, ragazzi si spera, incrociamo le dita alla Roma secondo me dovrebbe vincere e secondo me anche con due gol di scarto la Selernitana è una squadra che è un po' una squadra cuscinetto è una squadra che fa fatica proprio a segnare, a trovare i risultati quindi secondo me anche qualche assenza c'è la Selernitana quindi secondo me vincerà la Roma con due gol di scarto quindi quota a 1,84, me lo auguro, me lo auguro 1,84, 1 handicap poi Torino-Milan, qui ho trovato difficoltà allora diciamo che secondo me il Milan se la porta a casa era un deciso fra l'X2 o il 2 alla fine, ma alla fine ho optato per un 2 perché l'X2 la quota era bassissima quindi ho messo il 2 del Milan, quota 1,91 ci può stare poi Bologna-Sampdoria ho optato per un gol e entrambe le squadre segnano potrebbe uscire anche in realtà forse un 1x però ho voluto optare per un gol e entrambe le squadre perché secondo me Bologna in casa segna ma la Samp ultimamente segna spesso quindi un golletto può rifirarlo anche al Bologna quota 1,90 quindi se ve le giocate tutte ragazzi allora vi vado a fare il recap di tutte le partite Empoli-Spezia 1x Inter-Verona 1 handicap Cagliari-Juventus 2 Genova-Lazio 2 Napoli-Fiorentina 1 Sassuolo-Atalanta gol Venezia-Udinese gol Roma-Salernitana 1 handicap Torino-Milan 2 Bologna-Sampdoria gol Esempio Se vi giocate tutte le partite Se vi giocate 2 euro vincete 356 euro e 30 centesimi Se vi giocate 5 euro 890 euro e 74 centesimi Per esempio Ovviamente voi non giocate quelle che più vi piacciono Niente Questi erano i pronostici di questa giornata E fatemi sapere la vostra Che ne pensate qui sotto con un bel commento Lasciate un mi piace Iscrivetevi E sempre comunque Forza del Calcio Dai ragazzi Iscrivetevi E fatemi i vostri pronostici Un salutone Alla prossima Ciao raga